L'iter burocratico del gemellaggio tra Silvi e Ulcigni, dopo circa due anni di incontri, scambi e visite tra le delegazioni dei due comuni culminati con il voto dei rispettivi consigli comunali, si è concluso nella sala consigliare del Comune di Silvi, con la solenne cerimonia della firma del patto gemellare, firmato da Andrea Scordella, sindaco di Silvi e Alexander Dabovic, sindaco di Ulcigni. Abbiamo siglato finalmente un patto, un gemellaggio tra la città di Silvi e la città di Ulcigni, un legame storico che va intorno al 1500, noi abbiamo questo forte legame anche per la tradizione che ci lega, soprattutto dai ricordi storici che sono stati rievocati, come ad esempio la traversata per scappare dall'invasione dei Saraceni nel 1480 e soprattutto poi anche con i duchi d'acqua viva che per ripopolare le nostre terre, hanno fatto emigrare popolazioni e famiglie Dulcigniotte. Oggi abbiamo questa opportunità, è un'opportunità che non si ferma soltanto a uno scambio promozionale o sociale, ma con la nostra gemella inizieremo dei scambi sociali, culturali, enogastronomici, economici, dunque veramente è un punto di partenza tra due città che si rispettano, che sono da un lato e dall'altro dell'Adriatico, ma il legame di sangue ormai è centenario. Lei ha anche annunciato che state lavorando per creare un porticciolo turistico? Stiamo lavorando per rilanciare la città di Silvi, naturalmente tra gli obiettivi ci sarà anche la rievocazione in una traversata velica, dunque quale miglior auspicio che Silvi si possa veramente dotare di un approdo turistico per dare la possibilità finalmente di riconfermare le tante e grandi tradizioni marinaresche che la città di Silvi ha portato nei secoli. All'evento coordinato dal Presidente del Consiglio Comunale Antonio Gambacorta hanno partecipato anche i rappresentanti di numerose associazioni del territorio. Grande soddisfazione da parte dei due sindaci che hanno annunciato importanti collaborazioni. È un momento molto importante, molto emozionante ed è il punto di partenza per ricomporre i frammenti storici, i legami storici che hanno legato appunto le due comunità e spera che sia anche un momento di partenza per iniziare nuove collaborazioni partendo sempre da questi legami culturali legati al passato delle comunità di Dulcigno e Silvi che nel 1450 hanno avuto l'opportunità di vivere insieme e scambiare le tradizioni della pesca. Grazie. 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 Grazie.